L'export a retino purtroppo continua a non girare. Secondo il monitor dei distretti della Toscana, della Direzione Studi e Ricerche d'Intesa San Paolo per Banca e Cassa di Risparmio di Firenze, si registrano infatti perdite consistenti per quanto riguarda la pelletteria e le calzature retine, meno 40% di esportazioni, tessile e abbigliamento meno 23% e poi il distretto che perde il 10,4%. Proprio il dato dell'export nel settore dell'oro pesa sull'intero comparto regionale dell'export. Escludendo infatti il distretto orificeria di Arezzo, secondo una nota di sintesi, il dato regionale sarebbe positivo dello 0,3%. Invece il dato complessivo è meno 1,3% per le esportazioni toscane, un dato comunque in attenuazione rispetto al valore del primo trimestre quando registrava meno 1,8%. Alcune realtà si posizionano tra i migliori distretti a livello nazionale in termini di crescita dell'esportazione in valore assoluto. Peccato che non ci siano settori aretini, infatti primeggiano le pelletterie e le calzature di Firenze più 6,7%, il tessile e l'abbigliamento di Prato più 6,1%. Il dato aretino è invece inglobato nell'olio toscano che guadagna in export il 31,9%.